La settimana scorsa al Tag Hotel si è svolto il convegno Industria Transizione 5.0, organizzato da Regnier Associati Group in collaborazione con Overlux e Credit Agricole. Numerosa la partecipazione all'evento per un importante momento di riflessione. I temi salienti sono stati la sostenibilità per rispettare l'ambiente, l'umanocentricità che vede l'uomo alleato delle nuove tecnologie ma senza esserne sopraffatto, e il miglioramento delle qualità di vita lavorative con ambienti più efficienti, sicuri e gratificanti. E terzo tema centrale la resilienza per imparare ad adattarsi all'evoluzione e ai cambiamenti industriali. A fine serata, alla conclusione dei lavori, i partecipanti sono stati invitati ad un ricco buffet di chiusura. Un convegno che è lungimirante, soprattutto su una normativa nuovissima, che ancora le norme attuative devono arrivare, ma noi già ci siamo mossi assieme ad Overlux e Credit Agricole e abbiamo organizzato questo convegno dove ci sono iscritti almeno mi pare 140 imprese e stiamo cercando di portare un sistema di cultura o comunque una conoscenza che formi cultura nella gestione della transizione per avere un futuro aziendale che sì importi un sistema di investimento sui macchinari e sul miglioramento delle produzioni, ma che abbia un alto rispetto di quello che è l'aspetto dell'impatto ambientale, l'impatto tecnologico, l'impatto della sostenibilità nell'ambito delle produzioni, per le quali oggi come oggi esisteranno e esistono dei incentivi molto importanti a quelle aziende ambiziose che vorranno in un certo qual senso portare avanti progetti non a breve termine ma a lungo termine che garantiscono la salvaguardia del nostro pianeta. Come rendere semplici i problemi complessi? Per rendere semplici i problemi complessi ci vuole un'organizzazione più complessa che rende semplice quindi noi siamo un network che mette insieme tante figure professionali ma con un unico interlocutore per il cliente per cui la complessità viene gestita all'interno del network e il cliente si trova a una soluzione semplice perché dietro c'è chi gestisce la complessità. Come fare in modo che gli uomini non vengano sopraffatti dalle macchine? L'uomo deve conoscere e governare i processi, le evoluzioni, le transizioni e non subirli. Questa è la chiave di tutto. Quindi bisogna creare cultura di queste nuove cose per poter essere attori protagonisti e non subire l'evoluzione.